Un EIMA 2022 che si chiude con dei numeri ottimi sia in termini di visitatori che di espositori ma soprattutto di business. Abbiamo visto le nostre aziende tutte molto felici, hanno raccolti tantissimi ordini, tantissimi contatti e abbiamo visto tantissimi agricoltori contenti di venire a vedere novità, soprattutto in ambito tecnologico e della robotica, per cui siamo molto soddisfatti. Torniamo il prossimo anno anche con la nostra fiera Agrilevante, nel quartiere fieristico del Levante, proprio perché è una terra agricola alla quale noi teniamo molto e perché è una terra che si affaccia sui paesi del Mediterraneo dove c'è tanto sviluppo per l'agricoltura e quindi torniamo con Agrilevante.